buona raga bento di play in questo nuovo video oggi sono un nuovo video oggi continuiamo le categorie speciali di calciatori panini 2018 2019 oggi abbiamo le magliette che sono messi in ordine di classifica della serie a della 23esima giornata ovviamente non andrò a dire i punti ma li andrò a dire soltanto nelle prime tre prima di inizio di salutare a lorenzo luca e marco ciao ragazzi ricordo che già ne ho fatti tanti quindi vi lascio tutti qui sopra e schede finali ho fatto la juventus il napoli l'inter il milan gli scudetti gli allenatori e altre cose vabbè comunque sono video bellissimi potete trovare qua sopra ok ragazzi iniziamo con l'ultimo in classifica che il chiove rona colori giallo blu quindi quindi cosa qui è l'ultimo poi abbiamo il frosinone colori sempre giallo blu come il chiove verona e sappiamo la maglietta del bologna colori rosso blu poi la maglia dell'empre che secondo me è una delle più belle di questa stagione sono me la più bella colori blu poi abbiamo l'udinese colori bianco nero abbiamo il cagliari colori tipo bordo blu poi abbiamo la spalla colori celeste bianchi quindi la spalla che adesso andiamo a girare e adesso abbiamo il genoa colori come quelli del bologna del bologna del cagliari adesso abbiamo il parma colori gialli blu che dalla maglietta non sempre proprio bene e questo qua è pure bella maglietta del sassuolo verde nero poi maglietta del torino colori di maglia marrone e adesso abbiamo fiorentina colori viola poi la sampdoria che ha più colori del mondo è a il blu il bianco il rosso e il nero poi abbiamo la maglietta della roma ci stiamo avvicinando fino a prima ai primi cinque ci stiamo molto avvicinando quindi la maglietta della roma colori rosso arancioni poi la maglietta dell'atalanta colori blu nero poi colori quindi poi la maglietta del milan e siamo arrivati ai primi cinque quindi i colori del milan che sono rossoneri poi la maglietta della razzo azzurro bianchi e adesso raga abbiamo le prime tre qua metteremo la terza la terza in classifica ormai sapete tutti qual è ed è l'inter con 40 punti colori nero azzurri che andiamo a mettere qua quindi terza adesso la seconda che è la maglietta quindi qua abbiamo la seconda il napoli che qua possiamo vedere un bellissimo animale con dei denti giganti scrivetemi qua sotto che animale è secondo voi quindi il napoli con 51 punti 51 punti ed è la seconda in classifica ormai sapete qual è la prima quindi non c'è manco quindi basta che la metto qua non vi dico niente perché tanto non me lo sapete ed è colori bianco neri ed è la maglietta della juventus con 60 punti ed è la prima in classifica che andiamo a mettere qua quindi questa qui è la classifica inter terza con 40 punti secondo il napoli con 51 e con 60 la juventus e quindi raga se vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciate un like condividete e noi ci vediamo a un prossimo video ciao ciao